ci troviamo sul ponte della scienza e abbiamo come vedete alle nostre spalle il ponte di ferro il ponte dell'industria comunemente noto come ponte di ferro che al momento è chiuso perché stanno svolgendo dei lavori di ristrutturazione a seguito dell'incendio che c'è stato un paio di anni fa dovrebbe riaprire entro l'anno quindi al momento non è transitabile né dalle macchine dai pedoni e qui siamo in una zona di archeologia industriale c'è il gasometro c'è il vecchio porto fluviale che chiaramente non è più in funzione e poi guardando il ponte di ferro alla sinistra si può notare una costruzione abbastanza imponente che una volta alloggiava il mulino biondi allora perché ci troviamo qui perché il ponte di ferro è stato testimone di un episodio controverso e che comunque è stato documentato da uno da uno scrittore da un giornalista che si chiama gesare de simone che nel 1994 scrisse un libro e si chiamava roma l'occupazione di roma e questo libro trattava del dei nove mesi di occupazione dei tedeschi da parte dei tedeschi della della città della città di roma a seguito dell'armistizio in questo libro il desimone tra le varie notizie riportate lui descrive un fatto che accadde qui il 7 aprile 1944 in quel momento era quel momento storico era particolarmente duro particolarmente feroce e difficile per i romani perché erano arrivati ad ansio gli americani erano sbarcati il 22 gennaio del 44 però non riuscivano ancora a entrare a conquistare diciamo la città che era stata dichiarata città aperta per cui i romani vivevano una situazione abbastanza particolare difficile in quanto erano occupati dai tedeschi che avevano invaso la città a seguito dell'armistizio dell'8 settembre però anche bombardati dagli alleati che non avevano riconosciuto lo status di città roma città aperta per cui bombardarono più di 50 bombardamenti ci fu ci furono in quei nove mesi dall'8 settembre al 4 giugno 44 8 settembre 43 e quindi i romani praticamente erano stanchi affamati anche anche diciamo non vedevano una via di uscita perché vivevano l'occupazione però quelli che dovevano liberarli non trovavano non riuscivano ad entrare continuavano a bombardare obiettivi sensibili e militari ricorderemo il bombardamento di san lorenzo ma ci fu anche un bombardamento qui il 3 4 marzo a via ostiense con tanti morti insomma quindi il desimone in questo suo libro l'occupazione di roma descrive il 7 aprile un episodio e cioè donne affamate una moltitudine di donne affamate assaltò quel quell'edificio che vediamo il mulino biondi dove c'era all'interno un forno tesei queste donne chiaramente non avevano velleità politiche né militari avevano erano soltanto affamate sempre secondo il racconto e quindi assaltarono questo forno qualcuno chiamò questo sto raccontando quello che scrisse di simone chiamò la polizia tedesca che arrivò catturò alcune di queste dieci di queste donne ne prese dieci le mise sulla spalletta del ponte sulla destra dove noi lo vediamo quella parte lì e le fucilò senza apparente motivo perché in realtà queste donne non erano armate non erano un pericolo erano soltanto affamate quindi diciamo sembra una punizione estremamente orribile e ingiustificata e anche immotivata comunque la storia va avanti dicendo che queste donne furono lasciate lì tutto il giorno e poi non se ne seppe più nulla grazie al suo alla sua ricerca cioè di questo cesare de simone nel 1994 lui scrisse questo episodio quindi 50 anni dopo l'evento e riportò anche i nomi e cognomi aggiungendo il fatto che queste donne non erano mai state riconosciute né mai avevano avuto un riconoscimento pubblico erano erano sparite nel nulla sostanzialmente una cosa terribile ma anche un po' diciamo poco comprensibile perché insomma ci sono stati episodi l'episodio più grande a Roma furono le fosse ardatine il 24 marzo a seguito dell'attacco di Vierasella dove furono trucidate 335 persone e poi ci furono altri morti ci fu uno su tutti e l'uccisione di Caterina Martinelli che proprio mentre assaltava un forno il 3 maggio del 44 fu uccisa ma ci furono anche altri episodi chiaramente quindi che successe sostanzialmente in quel momento Roma viveva una particolare difficoltà per cui ci furono tanti assalti ai forni ci furono assalti diciamo però più che altro ai cascherini o a chi trasportava il forno e in qualche caso venivano rubate pagnotte farine e quant'altro e invece lui descrive questo fatto così terribile così crudo che però non ha mai avuto giustizia ed è rimasto sempre come negli episodi controversi perché il Desimone mentre per il resto delle informazioni delle notizie che riporta sul libro da dei documenti di archivio per questo specifico fatto lui praticamente dice di aver visto un mattinale della questura di Roma presso l'archivio centrale italiano però non lo pubblica né dagli estremi per cui per uno storico è un po' difficile accettare una verità basata su una singola testimonianza questa cosa diciamo che è rimasta così un po' nel limbo anche se fu presa molto seriamente dalla loro amministrazione di Roma e nel 1997 quindi tre anni dopo la pubblicazione del libro venne realizzata una lapide a ricordo a memoria di questo evento che fu installata prima sulla balaustra del ponticello poi fu anche offesa con delle scritte naziste il ponte di ferro poi fu ripulita da queste scritte che erano state oltraggiosamente infierite su questa lapide fu posta addirittura su un totem e da allora quindi da fine anni 90 viene celebrata ogni anno il 7 aprile una una cerimonia commemorativa di quell'evento di quel momento storico chiaramente c'era la resistenza c'era la fame a Roma c'era l'invasione ma soprattutto di queste dieci donne che persero perdevano le persero la vita per un motivo diciamo anche naturale in realtà queste non stavano combattendo non stavano cercando di uccidere o di attaccare qualche forza militare stavano soltanto cercando di sopravvivere allora cosa è successo io in realtà mi sono avvicinato recentemente a questa storia insomma nel 2008 2019 ho letto diversi articoli su questo su questo episodio e mi è scattata la molla di cercare chi fossero state queste donne chi erano che cosa avevano fatto prima del 7 aprile dove nel ciò che diceva la storiografia comunque accettata e avevano terminato la loro vita quindi chi erano queste donne dove erano nate cosa avevano fatto quanti anni avevano questa era il mio la mia idea e ho cominciato a cercare dico adesso qual è dove posso prendere una una informazione che sia diciamo affidabile e quindi ho cominciato a cercare informazioni e notizie su queste donne partendo dal fondo ricom parte dall'archivio centrale nell'archivio centrale dello stato un fondo di ricompense partigiani sostanzialmente è un database dove sono trascritti sono registrati tutti i partigiani e anche i patrioti cioè persone che in qualche modo hanno contribuito alla liberazione della dell'occupazione nazifascista e hanno tramite la resistenza riportato l'italia in una in una condizione di democrazia liberale e quindi comincio a cercare e la prima nella lista era clorinda falsetti e la trovo subito trovo questa clorinda falsetti falsetti che in realtà era schedata diciamo era registrata come come partigiana e la scheda riporta ferita ferita il 9 settembre 1943 però sulla scheda si riportano anche altre informazioni per cui questa persona era vissuta successivamente al 7 aprile 44 che quindi doveva essere morta qui in realtà risultava che non era morta non solo aveva cominciato a percepire la pensione di invalidità nei primi anni 50 quindi incuriosito sono andato più a fondo e ho scoperto che questa persona nata a monte rotondo viveva a monte rotondo non solo ancora vive è ancora viva io sono andato a casa sua e quindi un nome dei dieci clorinda falsetti non era morta qui ma era addirittura ancora viva sono andato avanti nella ricerca e ho cominciato a vedere italia ferracci il secondo vado a controllare in realtà italia ferracci non esiste non è un nome non è un nome di una persona esistita in realtà la persona a cui fa riferimento questa questa scheda è italo ferracci quindi prima era scritta italia poi corretta in italia e poi in italo italo ferracci quindi era un uomo addirittura che era nato a san cesario era insieme al fratello genesio il responsabile di una banda partigiana tra l'altro anche importante dal punto di vista strategico perché si collocava geograficamente a san cesario e quindi diciamo a metà strada tra roma e anzio dove ricordiamo a quei tempi c'erano gli americani che non riuscivano ad entrare i tedeschi che le rispingevano e quindi questa banda ha fatto diversi episodi di sabotaggio di diciamo diverse azioni militari come tante bande parteggiare dell'epoca e quindi il secondo della lista addirittura non solo era nato diciamo è morto dopo il 7 aprile 44 perché italo ferracci muore nel 1970 ma addirittura era nuovo e comunque faceva parte di una banda dei partigiani il terzo nome speria pellegrini stessa storia lo trovo si trova subito era la mamma di Enrico Assogna che era un altro un altro capo partigiano la banda Assogna e questa signora che era del 1876 quindi già diciamo di età abbastanza insomma avanti con gli anni fece insieme al figlio diverse azioni di anche lei di disturbo di sabotaggio e morì a roma nel 1966 quindi a 90 anni insomma in sostanza sono andato avanti nella ricerca e pian piano ho scoperto che tutti e dieci nomi di queste donne che erano state citate da Cesare De Simone nulla hanno a che vedere con il ponte di ferro con l'eccidio del ponte di ferro del 7 aprile del 44 e quindi la mia ricerca che in realtà all'inizio aveva come obiettivo quella di fare uno o più articoli per la rivista per il cara garbatella una rivista su cui scrivo insomma qui del municipio otto che parla di di cultura di politica di attualità di sport e di storia di memoria mi occupo principalmente di memoria e di storia in realtà avevo accumulato così tanto materiale che potevo poteva diciamo sfociare poteva risultare in una pubblicazione di un libro cosa che poi ho fatto insomma grazie anche all'aiuto e ai consigli di gianni gianni rivolta insomma di altre persone che mi hanno aiutato quindi alla fine diciamo ho ritenuto opportuno condensare questa mia ricerca su questo libro che si chiama la verità sull'eccidio del ponte di ferro che è uscito a fine 2023 e che sta riscuotendo un interesse abbastanza importante perché in sostanza anche se la mia ricerca e anche il libro aveva come obiettivo ha come obiettivo quello aveva come obiettivo quello di dare una un risalto una valenza storica una biografia a queste dieci persone in realtà ottiene anche il risultato di mettere in crisi quello che è un evento che è sempre stato controverso e la cosa diciamo che ha avuto anche sta avendo un seguito interessante perché abbiamo avuto un incontro alla casa della memoria alla presenza di personalità e diciamo di autori importanti grazie al professor gabrile ranzato con cui appunto sono venuto in contatto che tra l'altro anche lui aveva scritto nel suo libro la liberazione di roma aveva scritto e ha parlato diciamo di tutta la situazione politica strategico militare del caso dell'epoca e aveva messo fortemente in dubbio questo questo episodio per un principio di verosimiglianza sostanzialmente cioè lui senza entrare nel dettaglio delle donne dove stavano e cosa facevano proprio il racconto di Simone non era sostenibile non si sosteneva al di là del fatto che fosse stato dichiarato 50 anni dopo l'evento che è già una cosa di per sé insomma abbastanza strana ma nessuna nella stampa di regime nella stampa clandestina nessun altro documento disponibile sugli archivi non solo i cosiddetti mattinali che non ci sono non sono reperibili all'archivio non sono presenti ma nemmeno tutti i telegrammi dell'ufficio cifra delle comunicazioni fra prefetture fra le questure fra Roma e Salò dove a quei tempi risiedeva il ministero dell'interno il ministero della difesa l'esercito nessuno nessuno riporta questo questo episodio quindi diciamo che è un po strano quantomeno il fatto che un giornalista se ne accorge 50 anni dopo dalla notizia senza pubblicare documenti a corredo e quindi diciamo per chiudere la parentesi abbiamo avuto un incontro dove era presente a parte Gabriele Ranzato come relatore c'era il professor Paolo Pezzino è intervenuto anche l'assessore alla cultura del comune di Roma Miguel Gotor e la professoressa Paola Carucci oltre me chiaramente e in quell'incontro in quella giornata di studio abbiamo diciamo un po raccontato ognuno le proprie testimonianze le proprie considerazioni e si è arrivati alla conclusione che quell'episodio non è mai esistito tant'è vero che il professor Paolo Pezzino che è responsabile del sito straginazifasciste.it quindi un sito che elenca tutte le stragi che ci sono state in quel periodo in Italia e sono più di 10.000 ha ritenuto opportuno di cancellare questo episodio che prima era tra gli episodi ufficiali poi era stato messo tra gli episodi dubbi dopo la pubblicazione del libro di Gabriele Ranzato del 2019 e oggi dopo la pubblicazione del mio studio è stato definitivamente cancellato quindi la cosa interessante è che questo libro ottiene due risultati il primo secondo me il più importante è che si dà rilievo e visibilità a 10 persone che finora erano sconosciute e che erano ricordate per qualcosa che non avevano fatto ora in mezzo a queste 10 donne c'è anche una bambina di 4 anni che muore nel dicembre del 43 c'è una professoressa di biologia farmacista che muore nel 46 per una serie di problemi fisici ci sono due medaglie una d'argento e una di bronzo di due partigiane che avevano combattuto e hanno realizzato una serie di azioni molto importanti una si chiama Concetta Piazza che tra l'altro fu anche arrestata il 28 gennaio del 1944 fu portata al carcere di Via Tasso dove fu torturata e poi trasportata diciamo tradotta successivamente alle mantellate a Regina Celi dove rimase fino al 4 giugno 44 quindi liberata dagli americani e questa donna ebbe un trauma tranico otto denti mancavano insomma ha sofferto notevolmente poi è emigrata è andata in Argentina si è sposata e diciamo lì ha vissuto la sua vita fino al 1975 e passa e quindi diciamo la cosa più importante è che queste donne che hanno comunque avuto un ruolo un'importanza per la resistenza finora erano sconosciute o meglio erano collegate a un fatto che in realtà non era probabilmente vero ora io diciamo non so se il fatto è accaduto veramente o no fatto sta che oggi come oggi non ha nessun supporto documentale nessuna evidenza documentale per poter dire sì effettivamente avvenne questo ce lo dovrebbe dire quello che l'ha scritto la persona che l'ha scritto che Cesare De Simone che era un giornalista che scrisse il libro nel 94 poi scrisse un romanzo sull'accaduto del 1998 e nel 1999 scomparsa è morto per cui diciamo oggi non abbiamo più nessuna possibilità di poter dialogare colloquiare conversare capire quello che lui in realtà aveva visto sentito e trovato negli annali negli archivi e quindi il secondo risultato per chiudere il discorso è che appunto questo libro involontariamente perché io ripeto la mia idea iniziale era quella di dare una visibilità a queste donne che però teoricamente dovranno essere morte quel 7 aprile 44 quindi questo episodio probabilmente anzi diciamo oggi è ancora più debole da definire tant'è vero che personalità ben più pesanti importanti di me hanno ritenuto opportuno cancellarlo dalla storiografia ufficiale ora cosa succederà successivamente questo diciamo non lo so non si sa perché in realtà la stele esiste anche se oggi è stata spostata per motivi logistici proprio perché devono effettuare dei lavori quindi è stata diciamo spostata di una trentina di metri oggi si trova all'interno dell'edificio dei vigili del fuoco quando il ponte verrà reso nuovamente disponibile vedremo cosa succederà però la cosa molto interessante insomma almeno per per ciò che ci riguarda è che oggi è disponibile questo questo testo che è molto molto descrittivo e molto piano di particolari anche con episodi e una serie di diciamo di corollari interessanti anche se vogliamo un po divertenti ci sono tante tante informazioni e tante tante storie raccontate all'interno di questo libro compresa la storia della stele che anch'essa ha una storia un po diciamo travagliata viene viene installata nel 97 poi viene oltraggiata sfreggiata viene rimessa su una su una lapide su un totem ma soprattutto viene sanata perché questa stele questa rapida all'inizio viene messa in maniera abusiva una cosa diciamo che che fa sorridere però questo è quello che accadde e fu sanata nel 2003 2004 dalla sovrintendenza capitolina e quindi oggi diciamo fa parte dei monumenti censiti che si trovano in tutta roma ci sono poi appunto le storie delle dieci donne una storia un po del diciamo una un breve riassunto del contesto storico politico dell'epoca per capire perché si arrivò a quel momento in realtà la cosa vera è che ci furono tanti assalti a forni in quel momento proprio perché roma soffriva la fame tra l'altro a seguito delle fosse ardiatine la razione di pane nero cioè un pane di bassissima qualità era scesa da 150 grammi a 100 grammi a persona quindi sostanzialmente non c'era proprio la possibilità di poter vivere decentemente dignitosamente di poter nutrirsi in maniera appropriata quindi il contesto storico sicuramente c'era sicuramente le donne a quei tempi assaltarono i forni a più riprese perché in realtà non mangiavano però quello che oggi possiamo dire che queste dieci donne anzi nove donne un uomo che sono state listate dal De Simone nulla avevano ebbero a che fare con il presunto eccidio del ponte di ferro ciao 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 ciao